Nella stragrande maggioranza dei casi non c'è assolutamente bisogno di una rete internet per lavorare con le persone intorno a noi, anzi è un enorme spreco. Che cosa deve fare per esempio un insegnante? Deve lui sì utilizzare la rete per scaricare i materiali di cui ha bisogno, preparerà i propri, li inserirà in un'apposita cartella, dopodiché incontrerà le persone con le quali deve lavorare, trasformerà attraverso un'applicazione il suo dispositivo, per esempio un portatile, in un server che è in grado di realizzare una rete locale attraverso la quale queste persone si connettono al dispositivo del docente per scaricare i materiali o interagire con lui, per esempio rispondendo anche a dei test o lavorando insieme alla creazione di documenti. Poi pensate che cosa significa mettere 30 persone tutte alla ricerca su internet delle stesse identiche cose. Significa un tempo inutile, delle connessioni inutili, delle spese inutili a carico o degli utenti o dell'organizzazione, perché una operazione che è quella che ha fatto il professore quando si è preparato i documenti, viene replicata da 20, 30, 40, 100 persone perché tutte si connettono alla rete per prelevare dei documenti che avrebbero potuto tranquillamente essere a disposizione di tutti senza internet. Questo avviene perché c'è un concetto sbagliato di rete, perché quando si parla di rete si intende internet, ma è un errore grave perché internet è una delle reti possibili. Dobbiamo pensare al fatto che una rete è un collegamento tra persone e che questo collegamento tra persone che hanno dei dispositivi che si connettono può prescindere da internet, che è un collegamento globale. Io sono un'applicazione che ha trasformato il mio dispositivo in un server, cioè in un fornitore di servizi e quindi offrendo la possibilità a queste persone di ricevere dei documenti. Il mio Macbook, Mac mini della classe, quello che è il tuo PC con Windows, eccetera, è diventato un server grazie a un'applicazione, per esempio a MAMP Pro oppure a Mac OS Server o ad altre applicazioni che hanno consentito di trasformare il tuo dispositivo in una rete locale. Internet è una rete che ha a che fare con il mondo intero e queste persone e i loro dispositivi sono molto lontani. Quindi abbiamo bisogno di una infrastruttura che compone la rete mondiale, che noi chiamiamo Internet, e che ovviamente ha dei costi e per accedere alla quale bisogna pagare. Ma, ripeto, se una di queste persone, una, fa il lavoro di tutte, poi è in grado di distribuire il materiale necessario a tutti quanti. La rete Internet, questa rete globale, si chiama One World, cioè è un network mondiale. Invece, noi stiamo parlando di rete locale, LAN, local network. Il local network, come vi ho detto, si attiva attraverso un'applicazione che è interna al dispositivo e che consente a queste persone di prelevare i documenti e, anche con le funzionalità più evolute, di consegnare i propri documenti o addirittura di lavorare in un ambiente cooperativo come Wiki e creare compiti comuni, lavori comuni. Come funziona? È semplice, sono queste le operazioni da fare. Il signor Rossi attiva la rete e la sua portatile e si disconnette da Internet. Rossi avvia il server integrato tramite l'impiego di un'app. Gli utenti accedono tramite un indirizzo del tipo localhost e poi la data cartella condivisa che conterà i documenti da distribuire e ricevono tutti i documenti appunto da questa cartella. Che cosa può fare il docente in questo caso? Beh, per esempio, può preparare un compito, un compito di questo genere che tutti scaricano sul loro tablet, poniamo che abbiano un tablet, magari hanno un tablet con una penna capacitiva che permette a questi studenti di scrivere qui e quindi decodificare questa storia e poi di aggiungere una conclusione. È una delle tante attività, dei tanti lavori che si possono svolgere in questo caso. Ma vediamo come funziona il meccanismo. Questa è l'applicazione di riferimento. Ce ne sono tante che fanno questa funzione. È un'applicazione che funziona per Macintosh, per Windows, per diversi dispositivi. Quindi si scarica, si può provare, ma non ho bisogno di Internet. Devo fare un'altra cosa. Dal mio Mac scelgo Crea rete. La rete si chiama iMac di Alberto, perfetto. Quindi non sono più connesso a Internet. Infatti, se ricarico la pagina, la connessione Internet non è attiva. Perfetto. Apro l'applicazione del mio computer. Attivo Formamp Viewer, in questo caso. Vedete, localhost è il nome del web server. Poi, attivo l'altra applicazione che mi consente di far partire il server, da qui. L'ho avviato. Infatti il pulsantino è verde. E quindi sono sicuro che il mio portatile è diventato un server, al quale ci si può collegare. Le due applicazioni in questione sono MAMP Pro e poi all'interno della cartella MAMP è l'applicazione MAMP App, che sarebbe questa. Adesso vediamo che cosa succede lato iPad, cioè dal dispositivo mobile che si deve connettere al server. Vediamo intanto che la cartella che è stata condivisa è questa. È una cartella che è condivisa automaticamente dall'applicazione, viene indicato qui. Si chiama HTDoc. Prima di lanciare l'applicazione, ci dobbiamo connettere alla stessa rete del computer, che non è più FastWeb, ma sarà iMac di Alberto. Possiamo quindi aprire MAMP, facciamo tap su localhost, ed ecco che si è connesso. La connessione è attiva. Allora, guardiamo questa cartella. Vediamo che dentro questa cartella c'è un album.pdf. Che cosa farò? Qui continuerò l'indirizzo, a scrivere l'indirizzo, aggiungendo la parte che manca, album.pdf, perché l'applicazione ha già realizzato la connessione a questa cartella. album.pdf, ed ecco che lo studente ha a disposizione il documento che è stato condiviso senza bisogno di alcuna rete internet. Dopodiché lo potrà copiare e incollare in qualche altro documento, potrà fare delle foto dello schermo e conservarle nel suo rollino fotografico e quindi potrà svuoggere il lavoro richiesto. Vediamo con un altro materiale. Per esempio, vediamo cosa succede con un documento creato in keynote. Quindi questo, corso.key, basta sostituire di nuovo la stringa di caratteri che corrisponde al nome del documento che dobbiamo aprire e automaticamente questo documento verrà letto in un formato pdf. E quindi abbiamo a disposizione anche questo documento. Adesso proviamo con un filmato. Abbiamo inserito il filmato trailer mp4. Quindi vediamo che cosa succede. Beh, succede che vediamo il film. Lo vediamo e lo ascoltiamo. Vediamo con un documento di testo, che appunto abbiamo chiamato testo.pages, perché è creato con pages, quindi lo apriamo in formato nativo. Eccolo qua. Possiamo ovviamente copiare quello che serve e poi incollarlo, ad esempio, nel block note che abbiamo creato apposta per questo esperimento. Avete visto che qui c'è un'immagine e questa immagine è stata copiata e incollata in questo modo. Abbiamo fatto un tap su questa pagina e poi l'abbiamo copiato. Copiato e incollato qui. Eccolo qua. E ovviamente anche su PowerPoint non abbiamo problemi a scorrere il documento che ci interessa. E questo è tutto.